Urgenza ed emergenza funzioneranno a pieno regime all'ospedale di Nociara Inferiore per tutta l'estate. La rassicurazione arriva dal direttore sanitario della struttura di Viale San Francesco in una stagione dell'anno, quella calda che rappresenta comunque un momento topico sotto il profilo delle criticità. Noi manterremo sicuramente tutta l'attività a cui è deputata a dare questa struttura ospedaliera. Sicuramente dobbiamo consentire al personale di godere delle ferie previste ovviamente dalla norma. Garantiremo sicuramente tutta l'attività di urgenza ed emergenza, quindi su questo possiamo garantire che non ci sarà nessun tipo di riduzione dell'attività. È probabile che andremo invece a ridurre delle attività di elezione che non sono strategiche prioritarie per la struttura ospedaliera. È ovviamente per quelle patologie che possono essere rimandate anche ai mesi meno caldi, sia da un punto di vista climatico che proprio da un punto di vista di risorse disponibili. Quindi credo che garantiremo quello che abbiamo sempre garantito anche per gli altri mesi, gli altri anni che hanno preceduto questo. La direzione del Presidio ha cercato anche di chiedere un'integrazione di personale infermeristico proprio per non gravare ulteriormente un sovraccarico di lavoro. Non so se riusciamo nell'ambito di questo tipo di criticità finanziarie, se riusciamo ad avere un personale di supporto e quindi sicuramente se ci viene riconosciuto è probabile che possiamo dare un aiuto agli operatori di questa struttura ospedaliera.